Eccoci raga, ciao a tutti, siamo qui per farvi vedere un piccolo caro che abbiamo fatto tutti insieme Spero che vi piace, perché oggi è l'8 giugno ed è appena finita la scuola Oh la la, scuola di il merdatele, dai donna! Vai 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 No raga Vai 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 Oh mio Dio Vai vai vai, non c'è pista, non c'è pista Vai 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 Ma che zitto Ma che zitto No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Uno di noi, uno di noi No, no, no No, no No, no, no Guarda come sta No, no, no Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi stiamo facendo qui i capitori Oddio il babbone del primo si è arrabbiato, stiamo nei cazzi neri, ciao Bitch, 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 bitch